Francesco Facetelli, sono venista qui del club natico di Senigallia, sono tornato due giorni fa dalla Francia dove abbiamo fatto una preolimpica con il mio prodiere che purtroppo oggi non è qua perché deve studiare c'è anche la scuola di mezzo e sono venuto qua perché c'era appunto questa regata molto divertente dove partecipano molti soci di questo circolo e anche molti equipaggi provenienti un po' da tutta l'Italia e sono molto curioso di provare queste barche in cui sono salito poche volte ma sono sempre molto divertenti e oggi dovrebbe essere una bella giornata perché c'è molto vento quindi sarà anche un bello spettacolo per chi ci sta guardando e speriamo che vada tutto bene.